Vedi che è facile qui, questi ha, si salve sono truppo, mi passa l'operativo per favore, si No lasci vedi, c'è pure la roba, mi dispiace Mi ha chiamato la RAI, voleva sapere di questo fatto, ma io, pronto? Non li massacriamo subito, questi non funzioneranno Ma perché? Ma che dobbiamo fare? Guarda che non te li fanno, ma che si fanno Sì, salve sono truppo, con chi parlo? Sono Carbone, mi dica Salve Carbone, oggi ne trovo sempre bene quando chiamo Senta, mo le spiego, noi stavamo già sulla navetta, siamo gli smontanti Dentro c'è la Marinelli come funzionario, ci sono delle prevenzioni Vogliamo sapere, com'è la situazione? Se il caso è andare via o dobbiamo rimanere? Ma scusi dottoressa, io non vorrei essere polemico Noi non sappiamo nulla, cioè, le situazioni di che cosa? Cosa state facendo? Dove siete? Cosa succede? No, noi siamo sotto la questura con la navetta, stiamo smontando Poi dice che la navetta, chi ha detto di tornare indietro la navetta? Sì, sì, rimanga un attimino lì, rimanga un attimino lì perché c'è un casino E non sappiamo cosa sta succedendo C'è un'operazione in atto, credo, da via Trento Ma nessuno sa di preciso cosa sta succedendo Ah, eppure io non so nulla, perciò ho chiamato voi Deve andare a me, c'è stata una scolastica Io sono Marescia Ecco, io le sto dicendo che stanno arrivando da tutte le parti Le posso, mi puoi rimanere nascolto sulla navetta? Che adesso le dico, grazie Sì Siamo venuti a girare